E allora la differenza tra una Vespa e una persona? E' un essere inanimato. No, no signor. Non è quello. No, ho indorogato un pugno di... Di bravi persone. Scopriremo, questa sera scopriremo il problema, lo risolveremo. La cosa vecchia è fatta nel lusso. Che stai a festa è il mio cucino lusso. Grazie Cucino. Un uomo, una persona, una donna, vecchia, non c'è niente di farci. Un artista... Vecchia, voglio portare a nuovo. E' giusto? E' bene, bene, bene.